caro andrea ascolta rimanendo proprio su forza italia tu ci hai fatto pensare proprio sulla domanda precedente che lì forza italia è uno dei pochi partiti che non ha perso quindi elettorato è rimasto stabile dopo il governo conte parliamo ovviamente quindi è una gamba fondamentale del nuovo governo quindi vuoi farci un po anche capire dato che sei a stretto contatto con berlusconi e quindi hai un dialogo anche preferenziale che idee avete e che spazio vi immaginate nel nuovo governo ma guarda premesso che il nuovo governo deve ancora nascere deve nascere l'incarico al presidente del consiglio da parte del presidente della repubblica deve nascere la proposta del da parte del presidente del consiglio dei nomi dei ministri al presidente della repubblica ma c'è tutta una serie di passaggi istituzionali sui quali io non vorrei forzare noi non vorremmo forzare nei termini e cose perché non sono passaggi formali il potere di mattarella in questa fase è un ruolo sia pure di tipo arbitrale di garanzia ma è un ruolo importantissimo per cui io credo che non si debba anticipare veramente nulla quello che posso però dire è che evidentemente forza italia ha preso i voti con un impegno estremamente chiaro ed è un impegno che intende mantenere ed è l'impegno di essere il garante di quei cinque punti che berlusconi ha citato sistematicamente in campagna elettorale come i cinque capisaldi del nostro pensiero liberalismo cristianesimo garantismo europeismo fedeltà atlantica e queste sono le cinque cose senza le quali noi non staremmo nel governo e se noi non stessimo nel governo non ci sarebbe più nessun governo perché sul piano dei numeri oltre sul piano della sostenibilità politica il governo il giorno che decisessimo poniamo di uscirne lo dico solo per un'ipotesi astratta sia chiaro io credo che non ci sia alcun rischio alcuna possibilità che si debba porre un problema del genere perché con i nostri alleati c'è un rapporto chiaro molto leale bene molto franco su basato anche sulla consapevolezza del fatto che fra noi ci sono delle differenze perché noi non abbiamo né la cultura politica né il linguaggio di fratelli d'italia o della lega che hanno altre storie si rivolgono a un altro tipo di elettorato interpretano altre esigenze noi siamo quel centro che in tutta europa è il partito popolare europeo è il partito per capirci che guida le situazioni europee è il partito della signora von der leyen è il partito di roberta mezzola che è il presidente del parlamento europeo è il partito di manfred weber che è venuto in italia il presidente del partito europeo è venuto in italia in campagna elettorale a dirci che proprio questo ruolo di garanzia tutta l'europa che conta se lo aspetta da forza italia noi abbiamo un'enorme responsabilità anche per difendere il paese verso il resto del mondo e non tollereremo se mai si dovesse porre il problema alcuna deviazione su questo tipo di di punti di presupposti però dico se mai se ne fosse porre il problema perché torno a dire invece con gli alleati c'è un rapporto molto leale ci siamo detti con molta chiarezza quali sono le cose irrinunciabili per ciascuno e da questo su questo costruiremo un progetto un progetto che vorrei aggiungere e non lo aggiungo perché lo penso io me lo aggiungo per facendomi indegno interprete del presidente berlusconi deve allargare e coinvolgere il più possibile ma non parlo dell'opposizione con l'opposizione cercheremo di avere un rapporto costruttivo un rapporto sereno come deve essere in termini comune lealtà istituzionale perché chiunque sia nelle istituzioni è parte dell'istituzione quindi merito rispetto ma sto parlando del coinvolgimento delle grandi energie che esistono in questo paese in questo paese esiste una grande imprenditoria esiste un grande mondo del lavoro esiste una grande cultura un grande ricerca esistono delle grandi università esistono un mondo delle professioni pieno di di professionalità importanti esistono un mondo agricolo pieno di cose insomma esistono tantissimi soggetti che non sono la politica ma che hanno una parte determinante quello che succede nel paese e allora perché non li coinvolgiamo non li mettiamo assieme non li facciamo sedere intorno al classico tavolo per dialogare ma anche per assumersi le responsabilità dirette perché a me non importa nulla di prendere un super tecnico da mettere in qualche ministero perché è una cosa che serve a poco ma se nell'attività di governo fossero coinvolte corresponsabilizzate le categorie produttive del paese la cultura le parti migliori e più vitali dell'italia questo sì che ci servirebbe a costruire un futuro che deve essere quello della rinascita della ripresa del paese noi siamo sì fa bene berlusconi a parlare di miracolo italiano che noi siamo come all'epoca del piano marshal abbiamo il pnrr che è un insieme di risorse straordinario e dobbiamo costruire dobbiamo ricostruire questo paese è un compito come si può dire da far tremare i polsi ma noi siamo determinati a farlo però speriamo che di avere di fianco l'italia migliore tutto questo ci auguriamo anche per tutti noi andrea l'ultima